Io sono dell'idea che ci debba essere una cabina di regia, in passato ci siamo presentati al mondo in modo troppo scordinato e i risultati sono che per esempio in Cina sul vino siamo il quarto se non il quinto esportatore e di conseguenza penso che oggi come oggi c'è necessità di un po' copiare quello che stanno facendo all'estero quindi un interlocutore, un interlocutore importante che vada anche in giro per il mondo a dire esattamente come stanno le cose che il vino italiano è il migliore. Il nostro agri-food è un agri-food che funziona e quindi lavorare con chi sa fare per me è la cosa migliore. Insieme ai miei collaboratori abbiamo capito che con Vinitalia e Verona Fiere si può andare in giro per il mondo a testa alta c'è professionalità, c'è voglia di fare, c'è voglia di rappresentare questo settore e quindi ci sediamo attorno a un tavolo e valutiamo come operare al meglio.